Salve! Oggi le odio vi mostreremo come si usa il preservativo in modo corretto. Innanzitutto bisogna toglierlo molto delicatamente dalla confezione. Poi, la banana deve essere bella dritta. Così. E infine, questo è molto importante, bisogna formare una specie di serbatoio dove non ci sia aria. Ecco. E ora basta srotolare, srotolare, srotolare. Ecco fatto. Ah, quasi quasi dimenticavamo. È importante anche che al momento di uscire il preservativo non rimanca dentro. Basta tenerlo così e uscire prima che la banana si rilassi.